Praticamente alle tre di notte i nostri operatori sono andati a recuperarlo e adesso è ricoverato qua e stiamo per visitarlo, per controllare in quali condizioni di salute è. Il vecchio accalappiacani che sarebbe noi insomma e tutta gente che ama gli animali sennò questo lavoro non potrebbe farlo. Grazie a tutti.